A2, alla spinta, Baikircher spinta eccellente, 5.40, 19 centesimi di ritardo, vediamo se i Veneti riescono a recuperare, 56 centesimi di ritardo al labirinto, 69 centesimi perdono ancora, sono usciti abbastanza bene qui, mi hanno toccato un po' sulla sinistra. E' un giovane magro, vero? Magro è un giovane, è il primo anno che corre, l'anno scorso anzi è iniziato a correre, ha fatto i campionati italiani e poi niente altro, quest'anno è praticamente la prima volta che fa una gara. Serie, importante. Le spinte su, si può quasi moltiplicarle per due quello che perde nel primo tratto, nella parte lente. Comunque è un giovane quanti anni ha? Magro ha, mi sembra, 22 anni. Quindi lo sta seguendo, mi sa, in fase di crescita. Esatto, è un giovane nel senso del Boppa. Esatto, come si diceva prima. E' un giovane che quindi sta facendo esperienza, si sta dimostrando un buon pilota, anche se è logicamente molto ancora da imparare. Adesso quella che abbiamo definito prima il Bob puramente olimpico di Zampelli e Costantini, Bob Club Cortina, Zampelli ricordo ancora è vicepresidente del Bob Club Cortina.